Parliamo di una manifestazione in cui abbiamo invitato giornalisti, scrittori, fotoreporter, musicisti a portare qui le loro esperienze di viaggio e a farle vivere al pubblico di Pesaro in un anno così particolare come quello che state vivendo. Siete tutti molto carichi per via della nomina a Capitale della Cultura e noi cerchiamo di dare il nostro contributo appunto per portare un pezzo di mondo o almeno il racconto del mondo in questa città. Il tema di questa edizione sarà ascoltare la terra, l'intenzione appunto è far dialogare i nostri ospiti su questi temi che riguardano ovviamente la sostenibilità e il rapporto fra il viaggiare e il proteggere il mondo in cui viviamo perché lo sappiamo viaggiare è un'attività con un forte impatto sul pianeta e quindi noi riteniamo come l'Only Planet che il viaggio offra più vantaggi che svantaggi ma è molto importante stare attenti alle conseguenze delle nostre azioni. E quindi l'appuntamento sarà in piazza tra Piazzale Collenuccio e Piazza del Popolo dalle 7 del mattino fino dopo mezzanotte perché il DJ set sulla spiaggia dalla Cira comincerà appunto dopo i concerti di Bregovic, degli Africa Unite e di Max Casacci e Telmo Pievani di domenica sera. Tra gli scrittori avremo Nicola Laggioia che alle 5 di venerdì aprirà il festival con un Alezio Magistralis che toccherà, racconterà il viaggio nel mondo della letteratura da Omero e Giorni Nostri. Ci sarà il nostro fondatore Tony Wheeler che ovviamente è per noi uno degli appuntamenti a cui siamo più legati. Ci saranno appunto diversi giornalisti ad esempio Sergio Ramazzotti che ha fatto questo viaggio in Antartide per testimoniare appunto il cambiamento climatico seguendo le orme di Shackleton. Ma ci sarà anche Omar Di Felice, un ultra cyclist che ha appena attraversato tutto l'Antide in bicicletta anche lui per cercare di testimoniare il cambiamento climatico. Poi parleremo di grandi viaggiatori, racconteremo Chatwin. Abbiamo cercato di mettere insieme elementi di festa ed elementi di riflessione e di occasione per avere nuovi stimoli, nuove idee di viaggio nel momento in cui finalmente abbiamo ricominciato a poter varcare i nostri confini nazionali.